Ci piace vero pulire la corda del cavallo? Ma è molto importante perché la corda del cavallo il cavallo lo usa sinistra e destra per cacciare via la musca se voi non lo tenete pulito e senza nodi magari la corda lo gaccia in qualche parte poi lo muove e fa cadere il muscolo e strappa da solo dei crini quindi alla fine rimane senza coda e senza protezione allora, quella è la cosa e muovono anche le gambe però, allora, mi è piaciuto questa cosa dell'erbivoro chi l'ha detto? no, benissimo l'erbivoro vuol dire che mangiano questa roba qua poi dietro non lo vedete però è tutta roba molto sana, molto verde che quando voi la dovete mangiare fa il bivoro vero? dovremmo mangiare anche noi questa roba l'orzo, la crusca, il biscotto delle crusca fanno bellissimo le mele, la carota però, di fatto, cosa mangiamo noi? cosa preferiamo noi? cosa? pronto un cibo latte ne si può fare non Alla